i due pesci che mi mancavano presto come si vede l'occhiata e la guiglia no io c'è la guiglia le fatte a me la lampuga e con la testa di rip secondo me c'è l'asso questa è la normale, questa è la più leggera questa è la più buona, bisogna fare il momento che vanno in prenesia un garré un garré un garré un garré un garré eh 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 e a Charrao, parente del Dendiciao e a Charrao state per allora donna lui è donato quello che ha fatto il logo di Cliphangler piacere cosa alza il livello ah è caduto Charrao, ora sta giù il primo è il primo si ha autoslamato però non è bella una foto non ce la faccio è bella quindi il primo pesce donato il primo pesce di stamattina si è donato oltre a fare il logo che avete apprezzato l'hanno apprezzato sembra di sì oltre a fare il logo pesca quindi no, stamattina sono in compagnia di donato questo forse è l'ultimo giorno che ci fanno pescare domani è chiuso oggi sì domani no beh, vabbè quindi lo dobbiamo nilla è manato? è manato? è manato è manato? mi hai manato? è manato? è manato? non mi sarei tagliata solo non lo so non andate a fare il destino non è tutto non è tutto non è tutto ma non è tutto bello si chiude sopra? attira non si scoglie c'è? c'è? vabbè Donato caccia il primo c'è pure una guglia a presto ah bella è sempre mister sciarrano bella attrezza è black 90 90 questo colore poi nelle pietre rende coraggio un po' scolorito ah ora si è brutto che colore è? un interato trasparente blanc paillettes bello secondo me tre l'altro in su finito proprio in tre ti... sei? che è giusto che è giusto? che ha tocito Dead era giusto? è giusto t'acqua anche eri brillo che è giusto che è giusto che è giusto è giusto ecc su cui sembra lui charrao questa è la patria dello charrao con su caro charrao faccio una foto ah guarda che muzzicone che ha fatto su charrao papà e cristo si sono mangiato i minzi che muzzicone brutto ma pure la culo no la culo è sano però eh sulla schiena guarda qua viene fatta la pelle prendi da proprio rius che colori guarda qua che morso guarda qua guarda qua il morso vabbè che già già si è stato fortunato una volta e su due guarda qua guarda qua guarda qua guarda qua guarda qua guarda qua il charrao secondo me è stato un charrao eh era affabile non era male così l'utente ci muzza la cernia zucca non ci riesca io non lo vedo è una barra cura l'utente ci sembra giorno pieno l'ho preso il pomeriggio lo faccio impaurato è che poi devi trovare in attività ma sostanzialmente mangiare un uomo completamente calmo altre volte invece vogliono la scaduta con questo savage le ho presidue insieme le ho presidue insieme ma insieme proprio giustesse le stesse recuper chi arlamato questo è proprio il cacao sei in bille eh bastarde eh guarda eh porco zio cioè che ho già visto hai visto proprio ci ha proprio emanato mentre a vista proprio ecco l'iffle è stavaggio no no graviti bellissimo l'iffle quindi l'hai visto mentre attacchiava in diretta si conferma la patria dello charrao meravigliavo